benvenuti amici cari io sono deuterio e oggi giocheremo a un altro gioco angry bull posso beh ora ho accettato tutto per sbaglio lo stesso incollare correttamente il pvc innanzitutto la madonna musica da togliere non si sa mai che è troppo alta e ora giocheremo signori andiamo city mode non me lo fa fare è la madonna tre quarti e pubblicità che due coglioni non voglio copa alleanza non voglio togliere le pubblicità livello 1 è la madonna sartoria di marco canali basta prendi naruto inata falli scopare la madonna è impossibile giocare a questo toro di merda ce la facciamo uccidi tutti i civili prima che arrivino alla fine la madonna incontrollabile la madonna cosa fa hai la testata ma guarda come slida è michael jackson dove sono i civili eccoli buongiorno buttiamo giù l'auto auto invincibile fammi rinascere Gesù di merda figa ma non ho fatto niente fammi giocare salta 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 ma come ho perso ma non ho fatto niente colpito una macchina ma porca puttana adesso vado direttamente sui civili dai ama sono qua i civili sto guardando la mappa e quindi è invincibile questo civile è invincibile ma dove distruggi ma uno solo ne ho da fare ma che cazzo è ma dura 20 secondi il livello porca madonna ma non è possibile non è possibile fammi giocare ho capito va bene la prima mi sono perso a colpire le macchine la seconda i civili sui lati sono invincibili ho capito che il civile è quello la rosso che corre credo dai a prima o o morto e boh non lo sapremo mai sono diventata una corritrice con un culo incredibile che ruba una macchina atomica non so se atomica ragazzi ditemi voi se è una macchina di merda è bella corre ok posso già saltare il video saltalo però basta basta non me lo salta ok no non voglio comprare il piscio di castoro 3 stelle 500 più 600 più un attimo però un attimo momento momento i soldi per il livello completato 500 i soldi per aver il colpito 100 totale 700 boh 100 così dal nulla la matematica non era il forte di quello che ha creato un gioco questo gioco anche se è riuscito a programmarlo va bene io toccherò il pisello a tutte le type le gym girls non importa se è il pisello non posso neanche saltare questa pubblicità dov'è non posso saltarla ah ok si è in alto la barra non capivo figa vai 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 ammazzalo che gioco ragazzi madonna incredibile no no ma ma è velocissimo la madonna non è vero stava sul posto e ora giochiamo gol sono un bomber ho vinto uno zaino addirittura assurdo vediamo 500 più 100 1400 è così che funziona la matematica porca madonna ma come funziona pubblicità mi sta prendendo oh oh mi sta prendendo mi sta afferrando per il cazzo ah pensavo fosse la tipa il tipo che annega un giorno farò tipo scarico i giochi che mi vengono nelle pubblicità dei giochi di merda scarico i giochi di merda nelle pubblicità dei giochi di merda basta saltamela sta merda me va fan culo ovviamente let's go ultimo livello ragazzi oh sono due sto giro oh oh morto morto fammi andare fammi andare no che arriva al traguardo cioè letteralmente che merda comunque madonna che schifo vabbè muori madonna nella schiena butta l'ago ho vinto compra un miliardario basta zaini non mi servono non mi servono